... Bentornati, bentornati, siamo noi, stiamo per trascorrere un nuovo pomeriggio insieme. Tutto ebbe inizio in una piccola cooperativa milanese, si chiamava Il Teatro degli Uguali, poi una carriera brillante fatta sì di teatro ma anche di tanta tanta televisione. Benvenuto a Davide Ottolenghi in arte, Joelle Dix, grazie di essere con noi. Trascorreremo qualche minuto insieme per raccontare della sua vita, la sua vita che ebbe un inizio particolare perché ho letto che suo padre era un giorno dove la neve la faceva da padrona, il 3 gennaio, il giorno in cui lei è nato, partiamo dagli inizi. Quel giorno per portare sua madre in ospedale, suo padre ha rischiato di capottare. Sì, perché per l'agitazione nevicava, mi ha raccontato più volte che siccome non sapeva mettere le catene, ha capottato, ha rischiato di capottare. Come non sa farlo lei oggi? No, no, io sono uno invece che attento, adesso ho messo, sì, l'ho fatto più volte, adesso metto le gomme da neve, è più facile. Ah, questo risolve il problema alla radice. E passata questa paura, papà ha dovuto affrontare un altro, chiamiamolo così, problemino, perché va all'anagrafe, dice di voler registrare il suo figlio con il nome di David, e lì che succede? Succede che fino a, penso prima agli anni 60 inoltrati, quindi io sono del 56, c'era questa legge fascista, per cui i nomi non potevano essere stranieri, e quindi questo David venne considerato un nome straniero. Allora lui fece un piccolo ricorso, essendo già un giovane avvocato, in cui dimostrò che David in realtà era, non so cosa si è inventato, però ha tirato fuori il David di Michelangelo, il David di Donatello, e quindi è riuscito a far passare questo David, del resto in Toscana in particolare, David è un nome molto diffuso, senza la E, Davide, a Davide è un pochino più appoggiato. David, poi Gioele, lo dicevamo, il nome, come dire, d'arte, nomi tutti ebraici, e origini queste che lei non ha mai dimenticato, è così? No, beh certo, ci mancherebbe, come si fa a dimenticarle, le proprie origini sono quelle. Tra l'altro noi siamo di una famiglia, diciamo, da parecchi secoli ormai, si può dire, in Italia, quindi molto radicati nel tessuto nazionale, però al tempo stesso siamo allegati alla nostra fede religiosa, e quindi ecco che siamo ebrei italiani. In questo senso la figura di suo nonno fu molto importante, perché lei non ha nemmeno dimenticato mai le persecuzioni razziali, ricordi di suo nonno e la sua continua ricerca della fede. È stato un punto di riferimento il nonno? Beh, il nonno sì, il nonno è stato un punto di riferimento assoluto. Tra l'altro quelli migliori, perché non era un nonno che desiderava fare il saggio, non era uno che ti desse delle lezioni, era un uomo che col suo esempio ti contagiava positivamente. Lui mi diceva sempre, quando ero bambino, la cosa mi terrorizzava un po', mi diceva ricordati che Dio ti guarda sempre. Lui evidentemente intendeva la coscienza, forse, però io che ero bambino pensavo a questo... E anche oggi ritorna qualche modo. Sì, beh, questa cosa resta, l'idea che comunque ci sia un controllo da qualche parte, infatti ogni tanto dico, speriamo sia distratto, perché ci sono delle cose che magari... Lei per Mondodoro ha scritto a tal proposito un libro, quando tutto questo sarà finito, ce lo spiego un po'. Beh, questo è un libro importante per me, l'ho fatto perché mi sono accorto, se ne accorgono tutti, ma insomma, che la memoria è fondante per la vita di tutti noi, cioè sapere da dove veniamo e sapere che cosa è successo prima di noi. Mio padre era custode fino a poco tempo fa di tutta la storia della famiglia, che è passata negli anni, fine degli anni 30, 38, 45, attraverso prima le leggi razziali e poi la guerra e le persecuzioni. Io avevo sempre sentito pezzetti di verità, anche perché nessuno in famiglia, mio nonno ancora meno, raccontavano volentieri di queste faccende. In generale chi ha subito delle ferite grandi è difficile che parli volentieri, no? Noi sappiamo che uno dei grandi problemi dei testimoni è farli parlare. Ci hanno raccontato qui ad esempio Sammy Modiano, no? Che appunto era retroso all'inizio a raccontare quanto ne aveva subito, poi ha sentito il dovere di farlo. Questo è una cosa però molto molto vera. No, e quindi semplicemente ho messo lì mio papà qualche anno fa seduto, gli ho detto, senti adesso prendo proprio appunti, spiegami bene, raccontami tutto. E quindi lui mi ha raccontato bene tutto quello che è successo e io ho scritto una sorta di romanzo, che però è quella della sua vita, che è poi la vita che mi riguarda, perché lui aveva dieci anni nel 38, gli impedirono di andare a scuola e lui attraverso questa piccola cosa che all'inizio accolse con gioia, perché un bambino quando sa di non poter andare a scuola all'inizio, invece capì dopo, ben presto, che si trattava di un'esclusione pesante e poi si accorse che tutto il resto andava avanti. Naturalmente lo vedeva con i suoi occhi di bambino e poi di ragazzo, fino a che poi, quando i tedeschi sono arrivati in Italia e la situazione per gli ebrei si è messa veramente male, sono riusciti a scappare per il rotto della cuffia, si sono rifugiati in Svizzera e io racconto anche di questo esilio che lui mi ha raccontato, che è stato un esilio fondante per lui, è rimasto solo perché la famiglia è stata sparpagliata e è una sorta di romanzo di formazione, della sua formazione. Però conoscendo così tanto mio padre, mettendomi nei suoi panni, perché l'ho scritto in prima persona, come se io fossi lui, ho finito per conoscere un po' più me stesso, perché in realtà attraverso i dolori, le fatiche, anche le gioie di un padre, tu trovi segni dentro la tua identità. E dunque in fondo questo me lo ha avvicinato un po'. Naturalmente mi ha avvicinato anche al nonno, al quale ero già vicino, come dicevamo, e quindi è una specie di riunione familiare. E poi testimoniare quello che è successo, quello che è stato, secondo me è sempre importante. A tal proposito le chiedo se la preoccupano i rigurgiti di questa settimana. Ma me lo chiedono in tanti. Io devo dire che mia nonna, mi ricordo che ne aveva passate tante, come tanti della sua generazione, diceva, ma perché ne parlano, perché fanno, a volte una scritta di un imbecille viene fotografata e poi amplificata. Si parla tanto di alcuni che fanno queste cose, ma sono spesso una minoranza. Mentre magari non si parla dei tanti che fanno del bene. Come diceva, non so quale saggio, fa più rumore un albero che cade che cento che crescono. Naturalmente i motivi per il razzismo crescente e che ritorna ci sono, ma sono sotto gli occhi di tutti noi. C'è un grande problema di emigrazione, di povertà, che è un problema mondiale, planetario. Di guerra da cui scappare. Guerra da cui scappare, al quale noi non possiamo pensare di sottrarci, nessuno di noi. Perché non è che mettere dei recinti è molto difficile. La cosa più deleteria. Ma sì, ma anche perché è come se mettere la testa nella sabbia, cioè come se non accorgersi di quello che sta accadendo. Poi certo occorre anche regolare, trovare... Su questo non c'è dubbio. Sì, occorre avere un criterio, avere dei criteri. Fare politica, diciamo. Fare politica, certo. Fare politica. Senza perdere l'umanità, insomma. Su questo non c'è dubbio. Senta, Dix, le chiedo questo. Vorrei tornare un po' agli anni della gavetta, no? Abbiamo iniziato così, a quella cooperativa milanese, il Teatro degli Eguali. Quella gavetta quanto è stata importante per la sua carriera? Beh, sì. Io non sapevo che sarebbe stata una gavetta. Quando tu fai le cose nel tempo presente, non pensi che un giorno sarai lì a storicizzarle, no? Uno non storicizza di solito sul presente. È stata effettivamente una gavetta. Più che altro perché io volevo fare l'attore fin da bambino. Mia mamma dice che io, più volte, da otto anni, sette anni, dicevo a quelli che... Cosa vuoi fare da grande? L'attore. Io non è che me lo ricordo tanto. Però, evidentemente, avevo interiorizzato questo desiderio. Ma poi, dal desiderarlo al farlo, è stato molto complicato. E ho fatto un po' di tutto all'inizio. Questa piccola cooperativa, della quale sono molto orgoglioso, Teatro degli Eguali, che già nel nome aveva un progetto, che era l'idea abbastanza anti-attore, di essere tutti uguali. Perché gli attori, invece, hanno un ego pazzesco e tutti vogliono essere... Tutti vorrebbero essere protagonisti, ma fare cento protagonisti è difficile. È un po' complesso. È un po' complicato. Però noi facevamo un po' tutto insieme. Montavamo le scene, facevamo l'organizzazione. E quindi, insomma, in qualche modo c'era l'idea paritaria. Ma c'era soprattutto questa idea, alla quale sono rimasto legato, perché è stato il mio imprinting, che il teatro fosse una cosa utile per gli altri, per comunicare, per portare gioia. Abbiamo fatto molti spettacoli per i bambini. Per me è stato formativo lavorare per i bambini. Perché i bambini, illusoriamente, sono molto facili come pubblico. Invece è il pubblico più esigente, perché ti chiede e ti concede un'attenzione totale. Ma tu devi essere bravo a non tradire in nessun momento questo patto. E poi è bellissimo il rumore che fanno 500 bambini che applaudono, perché 500, cioè mille manine, non fanno l'applauso. Fanno una specie di crepitio che resta nelle orecchie. E poi ho fatto un po' di spettacoli con dei maestri. Ecco, perché poi ha avuto una serie di incontri importanti nella sua vita. Io cito due nomi. Antonio Salines, il primo, e Franco Parenti, il secondo, con il quale lei ha fatto un provino. È stato un provino fondamentale per la sua carriera. Ce lo racconta? Dunque, sì, io ho fatto un provino. Gli attori giovani devono fare i provini, no? E di solito vanno sempre male. Cioè, più ci tieni e più vai male. Poi ti dicono, ah, bravissimo, le faremo sapere, e tu sai già che non ti faranno sapere niente. Tra l'altro non ti fanno neanche sapere se non ti prendono. È ovvio, tu dici, non li sento più, l'ho capito. Però qualche volta sarebbe anche carino, gentile, perché uno sta lì appeso al telefono, aspetta. E invece quella volta... Quella volta sono andato, ho rischiato, un po' sono andato davanti a Parenti, che era un attore molto importante, che io stimavo. Ero anche un po' impaurito. Però ho detto, vabbè, me la gioco, e ho fatto un monologo comico, in parte scritto addirittura da me. E lui ha riso davanti, cioè si è divertito davanti. Me lo ricordo ancora che era un omino piccolino, insomma, tutto accucciato, che rideva nel buio. E poi mi disse, bravo, bravo di chi è? E io disse che era di Carl Valentin, perché ve lo era ispirato a un... Però... Però un po' ci avevo messo del mio, ma non ho osato a dire perché... E poi lui mi ha detto, bene, bene. Poi non mi ha chiamato subito, mi ha chiamato due anni dopo. Però, vuol dire che è rimasto quel provino. Un giorno disse di lei, Joelle, tu non sei male, ma per ora, più che recitare, fai rumore. Che voleva dire? Eh, questa è una lunga faccenda. Quando tu sei un attore giovane, non riesci a realizzare quello che pensi. Cioè, lui ti dice, devi essere triste, devi essere forte. E poi la memoria, e poi il respiro, e poi cento cose. E lui ti dava mille indicazioni in contraddizione. Una volta diceva, devi respirare. Una volta diceva, recita il pensiero, non mi interessano le parole. Anche se usi un sinonimo, va bene. Basta che capisco che c'è il pensiero dietro. Allora, tu usavi un'altra parola dal testo, lui si arrabbiava. Insomma, non sapevi mai come facevi, facevi male. E una volta lui, proprio quasi per consolarmi, in un certo senso, mi disse, guarda, adesso, ti ho ascoltato bene oggi. Ho capito qual è il tuo problema. Tu non reciti, tu fai rumore. Il che è, insomma, è una specie di pietra tombale. In realtà, nel suo modo così, appartenente scortese, era il classico maestro che tartassa l'allievo perché lo considera, e io mi considero fortunato, lo considera all'altezza di ascoltare questi consigli. non c'è dubbio. Però bisogna soffrire. Dobbiamo un po' correre, dobbiamo dire ancora tante cose. Io corro, sì. La prima, la TV, perché poi c'è stata tanta TV, Zelig. che esperienza è stata quella? Ho fatto... Poi un pezzettino dell'automobilista? Sì, certo, volentieri. Tra l'altro, ogni volta che vengo a Roma, l'automobilista mi torna... Proprio dentro. Un rigurgito, sì. Perché l'automobilista è nato a Milano. Io sono milanese e l'automobilista milanese è così, proprio sempre. Io ho messo questi occhiali scuri. Adesso questi sono abbastanza fumè, ma quelli che si vedono nella foto erano proprio scuri, scuri. Per dare l'idea di una maschera, viene dall'idea iniziale che ho fatto la Commedia dell'Arte è una maschera contemporanea. Cioè un personaggio che riconosci subito e che ha questa rabbia totale che è la nostra impotenza. Tutti si identificano in quel personaggio. Questo personaggio mi ha portato fortuna perché l'ho fatto in televisione e l'ho anche rifatto dopo averlo fatto all'inizio degli anni 90, l'ho rifatto dal 2007 al 2012 a Zelig facendo 35 monologhi nuovi dell'automobilista perché l'automobilista ha sempre cose da dire e poi succedono... Una battuta come? Ma guarda, una battuta è difficile perché mi hai detto che dobbiamo correre, io se metto gli occhiali è finita. No, ci sono queste rotonde, le rotonde sono la grande invenzione nuova, le rotatorie, le rotonde, che molta gente non sa come si usano. Cioè la regola è una sola, chi sta già girando ha la precedenza, solo che c'è molta gente che si ferma. E lì succede il caos più totale. Io ho scoperto di lei una cosa che non sapevo, che lei ama leggere la Bibbia. Peraltro ha scritto anche qui un libro dal titolo La Bibbia ha quasi sempre ragione. Perché quest'amore per la Bibbia? Beh, diciamo che nella nostra tradizione religiosa la Bibbia, che noi chiamiamo Torah, è fondante. Bisogna saperla, conoscerla, studiarla e discuterla soprattutto. Cioè non è un libro da prendere così com'è. Una volta piacque a un cardinale che mi ha onorato della sua amicizia, il cardinale Ravasi, mi disse che gli era piaciuta una frase che avevo detto una volta, che mi piace la Bibbia sporca di sugo. L'idea che stia in cucina, cioè che venga consultata magari anche quando stai preparando gli spaghetti. Cioè la Bibbia è un libro tra l'altro interessante perché è lì, è sempre quello, ma tu cambi man mano nella tua vita. Quindi scopri delle cose nuove, ti risuonano delle cose che ti avevano lasciato indifferente, passano gli anni, quindi è un po' uno specchio anche. E questo è la grandezza di un libro che contiene tutto perché è una specie di mare straordinario nel quale c'è un po' di tutto, anche cose strane, elenchi di nomi, regole. E poi perle di saggezza, il coelet di Salomone, il cantico dei cantici, che è meraviglioso. Tra poco ricorderemo che lei è in scena all'Eliseo, ma prima, in questo percorso che lei ci ha raccontato, fondamentale, molto importante, è stata l'amicizia con Renzo Marotta. Questo è un colpo basso. Renzo Marotta è stato, è una persona che diciamo nessuno conosceva, eccolo qua, noi siamo qui, siamo giovanissimi tutti e due, io con la mia bimba, lui col suo bimbo. Renzo Marotta era un ragazzo amico mio da sempre, fratello, siamo cresciuti insieme, lui era, conobbe CL, si innamorò di questo movimento e me ne feci innamorare anche a me, perché mi raccontava, insomma, e poi purtroppo lui è mancato per un incidente automobilistico nell'86, lasciandomi da solo, perché la mia vita è la vita con Renzo e poi dopo la vita senza Renzo. Che bella cosa che ha detto. Che bella cosa. L'anno scorso, l'anno scorso, parlando con gli amici del meeting di Rimini, in particolare con Otello Cenci, gli ho raccontato questa mia vicenda personale e lui mi ha detto ma perché non dedichiamo, non ti va di dedicare uno spettacolo a lui? Allora ho scritto uno spettacolo che ho fatto solo lì e che molti mi chiedono fallo, fallo, ma io lo volevo fare lì, a casa sua. E basta. Sì, poi non lo so se un giorno lo riprenderò, però si chiama Diversi come due gocce d'acqua che eravamo noi, cioè estrazioni diverse, religioni diverse, lui scienziato, io diciamo così artista, lui confusionario, io ordinato maniacale. Ma ci si intendeva, no? Ma no, però eravamo proprio l'uno per l'altro e niente, ripeto, mi ha lasciato solo e io in questo spettacolo dico tante cose fra cui quella in cui immagino che lui torni e di avere cinque minuti, dieci minuti a disposizione per dirsi qualcosa e confesso che non saprei veramente cosa dire e che forse passeremo il tempo a dire forse delle ciocchezze perché la nostra era un'amicizia veramente profonda. Sì, però era anche fatta di ciocchezze, se mi passa il termine di cazzeggio anche. No, è per carità. Ecco, il cazzeggio. Per carità, va benissimo. Però intanto lei è in scena qui all'Eliseo di Roma con il malato immaginario di Moliere. Insomma, un appuntamento da non perdere perché è nella casa. Beh, insomma, io ci sono per cui io non me lo perdo. Il malato immaginario ha una storia personale e artistica perché io feci quel signore che mi diceva fai rumore era Franco Parenti e io ero in scena con lui a fare Cleante, il giovane innamorato e oggi faccio il protagonista. È una bellissima edizione nella quale abbiamo ripreso sia la traduzione che le scene e i costumi. C'è una compagnia molto bella, la regista Andrea Rucciama è la stessa che giovanissima fece quell'edizione dell'82 ed è il racconto di un uomo, beh, qui è Moliere, un grande scrutatore d'anime che 400 anni fa racconta una sindrome che è super contemporanea perché la depressione sostanzialmente perché il malato immaginario è un depresso. È figlio dei nostri tempi. È figlio dei nostri tempi. Ai noi. Allora, fino al 17 dicembre siamo lì all'Eliseo, mi raccomando, vedere Giovele Dix è un grande, grande piacere. Intanto però è il momento del grazie e dello scusa. A chi chiedere grazie e a chi chiedere scusa? Dunque, a chi dire grazie sarò molto scontato, però voglio ringraziare mia madre perché mi sta dimostrando col passare degli anni quanto sia importante restare attaccati alla vita curiosi di tutto. Mia mamma ha 90 anni, non so se questo le fa piacere. l'applauso le fa piacere. Penso di sì. Anche se di solito si applaude 90 anni ma non è detto dipende come ci sia arrivato. Ecco, lei secondo me se lo merita perché ci è arrivata bene, ha passato tante traversie, però è ancora tanto attaccata curiosa della vita, ha voglia di fare e quindi io la ringrazio per questo perché mi ha trasmesso questa cosa ma me la sta trasmettendo come al solito con l'esempio non con le chiacche. La testimonianza. Scusa. Scusa invece per stare in famiglia a mio nonno perché non sono stato al suo funerale ed era la cosa che mi ha pesato più per il resto della mia vita perché facevo lo spettacolo e non potei, non ho potuto, sono stato vicino a lui tutto prima durante la malattia ma quel giorno non ho potuto esserci e lui mi ricordo che tra l'altro diceva sempre bisogna andare ai funerali e bisogna sempre telefonare subito alle persone che hanno avuto perché alcuni dicono no ma non voglio disturbare no invece no subito è importante e lo sai quando soffri quando ti capita un luto sai quanto è importante che arrivi una telefonata di uno che ti dice ti voglio bene con te basta senza avere il problema di disturbare ecco io purtroppo non sono andato a disturbarlo al funerale e mi dispiace gli chiedo scusa ancora ma il nonno l'avrà perdonata senza dubbio grazie a Gioele Dix grazie di essere stato con noi Gabriella eccoci qua eccoci allora non mancheremo ci sono ancora dei giorni per venirti a vedere all'Eliseo per la bella regia di Andrea Rucciamà allora noi tra pochissimo torniamo qui per parlare di soldi no spiego meglio per parlare di come possiamo trasmettere comunicare ai nostri figli il valore del denaro come possiamo educarli a farne un uso responsabile tra poco qui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti